terzo e ultimo capitolo di crimini e criminologia come di consueto è il momento della galleria degli orrori ma ci andremo tra poco al nuovo capitolo della galleria degli orrori lo anticipo torneremo su un serial killer di cui abbiamo già parlato peraltro nella puntata del 20 dicembre 2020 che trovate sul canale youtube di cusano italia tv trovate la storia dettagliatissima di zodiac ma si torna a parlare del killer dello zodiaco tra poco approfondiremo questi sviluppi col punto interrogativo è stato risolto veramente l'enigma però restiamo un altro punto interrogativo il giallo di perugia chi ha ucciso meredith kercher rimane il punto interrogativo perché una verità vera non l'abbiamo né reale né dal punto di vista giudiziario ricordo c'è un solo responsabile condannato rudy ghede a 16 anni con rito abbreviato 30 anni in primo grado 16 poi furono gli anni dati a ghede in appello ghede che proprio recentemente ha lasciato il carcere è stato affidato ai servizi sociali l'avvocato valter biscotti che abbiamo avuto ospite nel secondo capitolo ci ha anche ricordato detto che ghede in questo periodo di detenzione si è comportato benissimo si è anche preso due lauree eccolo qua rudy ghede ma appunto restiamo proprio sul giallo di perugia con il nostro compagno di viaggio per la galleria degli orrori sociologo e criminologo professor marino d'amore bentornato buonasera buonasera grazie per l'invito abbiamo sentito il documentarista e scrittore giornalista paolo cochi l'avvocato di rudy ghede valter biscotti però ci mancava e ci serve il pensiero di un sociologo o non che soltanto non soltanto criminologo soprattutto sociologo sociologo della comunicazione all'università nicolò accusano per tornare al discorso della clamorosa no mediatizzazione del caso meredith forse è uno dei casi più mediatici sì si è iscritto all'interno di una vasta gamma di omicidi che negli anni si sono susseguiti in quel periodo da sarascazzi in poi perché aveva i connotati di un di un evento assolutamente traumatico che ha destabilizzato quella che tendenzialmente era una città tranquilla come perugia fondamentalmente una città di studenti una città molto popolare da quel punto di vista sia per appunto essendo una città universitaria no e i protagonisti di questa vicenda come possono essere inquadrati all'interno di quel contesto e poi perché un delitto così efferato e così appunto destabilizzante ha traumatizzato quella che era una comunità come dicevo prima tranquilla e soprattutto per i connotati che è assunto in un secondo momento dove i protagonisti e mi riferisco ovviamente a Raffaele Sollecito ed Amanda Knox allora fidanzati in un primo momento sembravano quasi esenti dalla storia quasi delle vittime mancate no rispetto a quella vicenda e poi dopo si è scoperta quantomeno una loro partecipazione chiamiamola in questo modo perché come giustamente ha sottolineato lei l'unico condannato è Rudy Guedet che ha cambiato completamente le carte in tavola e per certi versi ha demonizzato mediaticamente parliamo solo da un punto di vista comunicativo ovviamente queste due figure soprattutto poi per i risvolti e gli sviluppi che ci sono stati in seguito. Eh sì sentenze varie ricordiamo quella di primo grado 5 dicembre 2009 condanna Sollecito e Guedet Sollecito Knox e Guedet ricordiamo Amanda Knox 26 anni 25 a Sollecito 16 con rito abbreviato però sottolineiamolo per Rudy Guedet in primo grado aveva preso 30 anni lui ha fatto un processo separato appunto proprio con rito abbreviato non è stato accorpato a quelli ai processi che hanno riguardato Amanda e Raffaele lo ha ribadito eh ha ribadito questa linea eh in qualche modo vincente perché altrimenti secondo l'avvocato Biscotti eh avrebbe rischiato l'ergasto lo chiede se fosse stato eh equiparato ad Amanda e Raffaele in un unico eh processo quindi prima sentenza che condanna eh Amanda Knox e Sollecito poi il 3 ottobre 2011 la Corte d'Assise d'Appello di Perugia condanna Amanda Knox a tre anni di reclusione per il reato di calunnia ma assolve per non aver commesso il fatto sia Amanda che Raffaele Sollecito. 26 marzo 2013 la Cassazione eh annulla le sentenze di assoluzione del grado di giudizio precedente processo d'appello bis 30 gennaio 2014 la Corte d'Assise d'Appello di Firenze rovescia il precedente giudizio di secondo grado e afferma la colpevolezza degli imputati condannando Amanda Knox a 28 anni e 6 mesi di reclusione Raffaele Sollecito a 25 anni. Poi l'ultima e definitiva la sentenza della Cassazione 27 marzo 2015 assolve definitivamente dall'accusa di omicidio Raffaele Sollecito e Amanda Knox per non aver commesso il fatto. La Knox eh sconta solo la condanna per calunnia nei confronti di colui che aveva tirato in ballo nella prima fase delle indagini ovvero Patrick Lumumba. Anche questa girandola giostra di di sentenze ha inciso sulla mediatizzazione di un fenomeno che era già mediatico no? Era già mediatico e sicuramente anche le bugie le le testimonianze falte fatte da Amanda da Amanda Knox hanno contribuito a creare quel clima di destabilizzazione e soprattutto di scarsa credibilità dei due imputati. Noi ricordiamo che Amanda Knox poi è tornata negli Stati Uniti e soprattutto secondo me non si è tenuto sufficientemente eh conto della vicenda di Lumumba che effettivamente ha passato un periodo davvero critico da quel punto di vista. Poi come lei mi insegna poi una volta che ti aggitano come mostro questa cosa che rimane. L'etichetta l'etichetta è molto pericolosa soprattutto quando poi è così amplificata dai mezzi di comunicazione. Lei è tornata in America e tra l'altro se vogliamo ha strumentalizzato questa storia perché oltre a essere diventata giornalista se non sbaglio a Seattle ha anche scritto un libro sulla sua vicenda e tra le altre cose è stato fatto un film tv sulla sua vicenda con una protagonista che era anche abbastanza popolare all'epoca un'attrice che si chiamava Panettiere tra l'altro un'italo americana. Quindi ha tra virgolette monetizzato quella che doveva essere una vicenda che la doveva vedere forse maggiormente coinvolta alla luce delle false testimonianze e che invece paradossalmente ha rappresentato quasi un trampolino di lancio per lei, come se quelle bugie non avessero per niente inficiato la sua credibilità. Diverso il discorso per Raffaele Sollecito, anche lui voglio dire rispetto per esempio a Rudy Gede ha pagato in maniera più tenue questa vicenda e però si è visto coinvolto maggiormente. Forse una maggiore attenzione per Amanda sarebbe stata quanto meno doverosa anche perché dal racconto e dalla narrazione di questa vicenda è completamente sparita la vittima e gli affetti cari della vittima che hanno dovuto pagare quella perdita. Questo secondo me da un punto di vista comunicativo e se vogliamo in un secondo momento anche se è molto più importante il giurisprudenziale ha inciso molto nella percezione di questa vicenda. Voglio ricordare che secondo quasi tutti i giudici fu un omicidio commesso da tre persone, solo la sentenza definitiva della Cassazione parla di un solo assassino Rudy Gede, condannato però, lo abbiamo detto, a soli 16 anni e se veramente è lui l'omicida 16 anni sono pochi, seppur con rito abbreviato. Soprattutto bisognerebbe capire poi qual è stata la dinamica del omicidio, perché se in un primo momento si afferma che l'omicidio è stato commesso da tre persone, la sentenza è abbastanza strana, è abbastanza paradossale e alla luce di questo in seconda battuta va evidenziato il numero esiguo degli anni che vengono combinati a una persona che si ritiene essere autore di quel tipo di omicidio. Ovviamente questo è un campo che attiene all'area giurisprudenziale, all'area legale e non sono certo io a essere più preciso, perché ovviamente lascio la parola a chi si occupa di queste cose da un punto di vista legale, però, ripeto, da un punto di vista di percezione sociale, diciamo così, si va più nell'ambito dell'impunità piuttosto che in quello della sanzione. E allora, per chiudere il discorso, abbiamo sentito prima Mandanox quando intervenne a Modena al Festival della Giustizia, accusando Ghedè, dicendo, e il discorso è chiaro, c'è un solo responsabile, è stato Rudy Ghedè, a uccidere Meredith. Peccato che prima avesse detto Lumumba, insomma. Prima avesse Lumumba, e poi c'è un memoriale che la colloca comunque sulla scena del crimine, anche se non ci sono tracce di Amanda, di sollecito c'è una microtraccia, quindi, e questo, secondo prima Paolo Cochi ci ha detto, grosso errore dell'accusa è stato puntare su quelle tracce di DNA, che poi di fatto si sono rivelate, no? Sembravano la prova regina. E invece hanno dimostrato la loro poca efficacia da questo punto di vista. Eh sì, per una serie di motivi. Vi facciamo ascoltare un video che è stato realizzato dallo stesso protagonista, da Raffaele Sollecito, il 29 maggio scorso, ha pubblicato questo video sui social ed è un forte attacco alla stampa, vediamo. Adesso, questo, comunque, faccio tutto questo video perché io sono stanco, dopo 15 anni non voglio mettermi lì a combattere ancora con dei giornalai che dicono stupidaggine e falsità. Io adesso metto la sentenza in pdf, i link alla sentenza di Cassazione di Ludigide, sotto la sentenza di Cassazione di Ludigide sotto questi video che pubblicherò sui vari miei canali. metterò anche lo stralcio da cui all'inizio dove viene condannato con l'articolo 575-576. Detto ciò, se un domani mi accorgo di nuovo, perché li ho visti anche in passato, mi accorgo di nuovo, che ci sono giornalai che scrivono o che fanno intendere che Ludigide è stato condannato in concorso e che quindi bisogna scoprire quel colpevole, bisogna rendere giustizia a Meredith, tutte queste stupidaggini, queste balle che servono soltanto per riempire le loro tasche ma non rendono giustizia proprio a nessuno, mi verrò costretto a fare denuncia per diffamazione nei miei confronti, perché non è tanto quello che dicono sul gay day, il problema è che loro lasciano comunque intendere che io e Amanda Knox siamo stati assolti così per fortuna, così per caso, così come se fosse una soluzione piovuta dal cielo. E questo era Raffaele Sollecito, un suo video del 29 maggio scorso pubblicato sui social, l'avete sentito, un attacco alla stampa. Penso sia inutile aggiungere altro, anche se poi è una posizione personale. Diciamo che forse sarebbe stato più opportuno, non adesso a giochi fatti, perché ovviamente ora ci sono le sentenze, quindi leggere in maniera letterale le sentenze aiuta questo tipo di, senza formulare nessun tipo di accusa, perché le sentenze parlano chiaro, però forse sarebbe stato più corretto chiarire le dinamiche dei rapporti con Rudy Gede in una fase precedente e soprattutto quando poi, a costo di sembrare ripetitivo, si delegittima la fonte in questo senso, in questo caso quella mediatica, che molte volte non ci nascondiamo, ha diffuso anche delle fake news o comunque delle notizie parziali, non solo in quest'ambito ma anche in tantissimi altri ambiti. Parlare anche delle testimonianze di Amanda Knox che attraverso l'accusa con Lumumba, ripeto, ha rischiato di inficiare tutto quello che era il castello accusatorio e soprattutto indagatorio rispetto a questa vicenda, ecco forse sarebbe più opportuno andarci un pochettino più cauti e chiarire meglio quali erano le dinamiche dei rapporti senza poi staccarsene in maniera così repentina, posso capire il malumore dopo tutto questo tempo, ma anche nei confronti di Meredith, anche in questo video Meredith viene nominata una sola volta ed è la vittima, ecco questo mi sembra quantomeno paradossale per quanto riguarda il chiarimento della vicenda e vergognoso nei confronti della famiglia che comunque ha perso una figlia, una sorella e per gli amici un'amica e quant'altro, insomma ecco un po' più di attenzione, un po' più di buon gusto forse non guasterebbe. Ecco mi collego proprio a quello che ha appena detto il professor Marino D'Amore per chiudere il discorso, questa puntata idealmente è dedicata a Meredith soprattutto perché abbiamo cercato in qualche modo di capirne di più, è chiaro è impossibile soprattutto a noi arrivare alla verità, però abbiamo cercato di fare il massimo e vorrei chiudere con un film che è dedicato a Meredith, prima il professor D'Amore parlava del film che riguarda Amanda, Meredith the face of an angel, è un film del 2014 diretto da Michael Winterbottom con protagonisti Kate Beckinsale, Daniel Brühl e Valerio Mastandrea e la pellicola è ispirata alla vicenda dell'omicidio di Meredith Kercher raccontato però dal punto di vista di alcuni giornalisti, devo dire è un film che consiglio perché stigmatizza l'eccessiva e nociva mediatizzazione del caso Meredith e soprattutto non dimentica la povera vittima di omicidio, in breve la trama Thomas è un giovane regista che decide di indagare su un omicidio avvenuto in Italia ma l'uomo si rende conto subito di come l'attenzione dei media sia riservata costantemente alla principale sospettata che in quel caso si chiama Jessica e non Amanda mentre la vittima che in quel caso si chiama Elizabeth e non Meredith è stata totalmente dimenticata e questa esperienza poi lo porterà a riflettere sulla propria vita, la relazione con l'ex moglie, con la figlia, è ambientato a Siena ma i protagonisti hanno altri nomi ma è chiaro il riferimento è doveroso, dico dire, tanti anche Paolo Coghi prima hanno sottolineato questa dimenticanza totale della vittima di Meredith. L'ho detto anch'io, è vergognoso. Sì, proprio perché l'ha detto lei. No, no, nel senso mi allaccio e abbraccio completamente la tesi di chi mi ha preceduto, è vergognoso, è un discorso legato sicuramente alla spettacolarizzazione del dolore, quindi quel tipo di stigmatizzazione rispetto a un certo tipo di giornalismo è giusto. Come è sempre sbagliato però non bisogna fare generalizzazioni. Lui ha usato un termine molto preciso, giornalai. Non sono tutti giornalai, ci sono dei giornalai ma ci sono anche i giornalisti, quelli che riportano la vicenda e cercano di capire e di chiarire quali sono le dinamiche che riguardano una certa vicenda. La verità, come giustamente ha detto lei, forse non saremmo noi a svelarla, non possiamo essere a svelarla, ma le persone che magari avrebbero potuto dire qualcosa in più a suo tempo non l'hanno fatto e questo è un dato che va registrato. Invitiamo magari anche la procura, visto che ci sono ancora tracce che non sono state analizzate, sono lì quei reperti, si potrebbe anche riaprire. Ma io mi riferisco anche agli stessi protagonisti. No, no, soprattutto i protagonisti, è chiaro. No, dicevamo, per arrivare a una verità si potrebbe provare a analizzare queste tracce che non sono state mai analizzate. Decisamente. Magari si potrebbero avere altre risposte. Voltiamo pagina con Manuel Mazzei, andiamo alla galleria degli orrori. Killer dello Zodiaco, risolto l'enigma Zodiac. Parlamo di Zodiac, dicevo, il 20 dicembre 2020, la puntata la trovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV, ancora era accorpata arresto di crimine e criminologia e una puntata in cui si parla del giallo di Via Poma, di Simonetta Cesaroni e poi si va a Zodiac. Lo sviluppo recente di cui parlavo prima è questo. Ha terrorizzato gli Stati Uniti negli anni 60, inviando lettere cifrate a stampa e polizia. Gli omicidi compiuti dal killer dello Zodiaco, tra il 68 e il 69, sono rimasti nella storia degli omicidi seriali. Ma a 52 anni da quegli omicidi a lui attribuiti, un gruppo di specialisti composto da 40 ex investigatori, giornalisti e membri dell'intelligence militare avrebbe identificato Zodiac. Secondo alcuni accertamenti postumi, e abbiamo la foto, si tratterebbe di Gary Francis Post, eccolo qui, un veterano dell'aeronautica americana morto nel 2018. Tramite alcune foto del defunto, gli investigatori si sono resi conto che le cicatrici, eccola qui proprio quella dell'identikit di Zodiac, le cicatrici sulla fronte del presunto serial killer erano identiche a quelle riportate sui disegni dell'identikit diffuso dalle forze dell'ordine. Oltre alle cicatrici direi anche le pieghe della fronte. Però, diciamo, questa è una notizia che ha fatto scalpore, ma la polizia, l'FBI ci vanno cauti. Ecco qua c'è un altro parallelo e lì Post è più giovane. Sì, ci vanno molto cauti, è sicuramente un grande colpo di scena, nel senso che alla fine tutte quelle che erano le indagini, i sospetti erano tutti confluiti su un altro personaggio che era Allen, no? Sì, e abbiamo una foto anche di lui. Il protagonista anche della narrazione cinematografica. Ecco, del famoso film. Nel famoso film Zodiac che si è fatta e che quindi lascia, non affermandolo perché non può affermarlo, però lascia percepire che effettivamente l'autore di quegli omicidi, il legittimo proprietario dell'identità di Zodiac fosse lui. Quella di Post invece è un colpo di scena, come dicevo prima, che però secondo me è suffragato da evidenze molto importanti. Nel senso che questi quattro esperti, come giustamente ha detto lei, i denominati case breakers, che si sono occupati, hanno cercato oltre che di decriptare nuovamente i messaggi di Zodiac, in codice, hanno capito, ecco, la testimonianza di uno di loro forse è particolarmente indicativa e recita letteralmente, se avessimo conosciuto prima il nome per intero di Post, che è Gary Francis Post, avremmo capito che le lettere mancanti, le uniche lettere mancanti dei suoi messaggi formano proprio il suo nome e quindi potenzialmente poteva essere una fermazione, ovviamente molto nascosta tra le ricche della propria identità. Ma oltre a questo ci sono anche altri elementi che vanno a suffragare questa tesi e che forse possono essere abbastanza indicativi e chiarificatori in questo senso. Secondo il team, peraltro, Post sarebbe ricollegabile anche all'omicidio di Sherry Joe Bates nel 1966 a Riverside in California. Perché è ricollegabile a questo? Diciamo che parte tutto da lì, perché effettivamente si ha evidenza che i due sono entrati in contatto e quindi questo è stato un po' la scintilla catalizzatrice che ha fatto virare tutte quante le indagini su di lui. Aggiungo che c'è un altro elemento molto particolare che invece riguardava Allen, che è l'elemento dell'orologio. Su una scena del crimine fu trovato un orologio di marca Zodiac. Perché da lì prese il famoso simbolo che poi vediamo. Da lì prese il nome e il simbolo, che è la croce all'interno del cerchio. Tipo celtica. E che molti testimoni dissero che gli fu regalato dalla madre e che da quel momento Allen si faceva chiamare Zodiac. In verità su questo orologio sono stati trovati dei segni di vernice e per un certo tempo Post ha fatto l'imbianchino. Questo è un ulteriore tassello che ricostituisce il mosaico rispetto all'autorialità degli assassini. Altro elemento importante è che essendo, avendo fatto parte dell'aeronautica insomma, sapeva usare le armi. E c'è un altro elemento importante in questo senso perché è spuntata una testimone. Una testimone che non ha rivelato la sua identità, è diventata popolare, almeno in questo recente lasso di tempo con il nome di Gwen, che ha detto che per un certo periodo di tempo, quando era piccola, i genitori la lasciavano dalla famiglia Post, quindi da Post e dalla moglie. E per ingannare il tempo Gary Francis Post ha insegnato a sparare a questa bambina. E quindi è un altro elemento che non è da sottovalutare. Tra le altre cose, ultimo elemento che si unisce ai premi due, il fatto che su una scena del crimine è stata trovata l'impronta di uno stivale militare riconducibile per forma e soprattutto per numero del piede a quello di Post. In tutto questo, tornando alle tracce di DNA del caso Meredith, diciamo che in questo caso non è stato possibile recuperare il DNA di Post per poter effettuare nuovi accertamenti sulla base delle prove raccolte. Post è morto nel 2018 per cause naturali, nonostante tutte queste prove raccolte che ci ha elencato il professor D'Amore, però l'ho detto in apertura, le forze dell'ordine non hanno confermato la versione dei fatti del team di 40 investigatori che avrebbe fatto luce sul caso. Quindi abbiamo visto dei titoli un po' sparati, svelata l'identità di Zodiac, restiamo ancora nel dubbio. I titoli sono quelli che servono poi ad attirare l'attenzione sull'articolo, il sensazionalismo e la spettacolarizzazione gioca molto su questo, quello che in internet viene chiamato il kickbaiting, serve proprio per attirare l'attenzione e catalizzarla su un determinato argomento. Detto questo, è vero che forse per la prima volta ci inizia a essere un barlume di evidenza rispetto all'autorialità degli assassini. Ancora più elementi rispetto a Allen, secondo lei? Sì, perché quando poi sono state approfondite le indagini su Allen, sia il DNA non ha dato esiti positivi in questo senso e anche la grafia di Allen confrontata con quella di Zodiac non corrispondeva. Nonostante Allen in alcune sue mani, aveva anche dei precedenti penali Allen e questo ha contribuito sicuramente a definire la sua papabilità come autore degli omicidi. C'è anche da dire che alcuni testimoni hanno rivelato che Allen avrebbe in passato affermato che non si divertiva più a uccidere gli animali, ma molto probabilmente si sarebbe deciso a uccidere delle coppie. Ecco, questi detti e non detti hanno contribuito soprattutto alla luce dell'alone di mistero che ha avvolto sempre questa vicenda a creare in lui dei forti sospetti. Però con l'evidenza dei fatti la figura di Allen rimane un po' debole. Non lo era fino al ritrovamento delle tracce che hanno ricondotto a post, perché come abbiamo detto è stato anche il protagonista del film, ma adesso la situazione cambia radicalmente. Anche perché non dimentichiamo, adesso sono loro i protagonisti delle cronache Allen e post, ma ci sono anche altri sospettati che per un certo lasso di tempo rispettivamente hanno occupato sia l'immaginario popolare sia le indagini degli inquirenti. Ecco, oltre ad Arthur Lee Allen ricordo Guy Ward Hendrickson, poi Jack W. Torrance e Giuseppe Joe Bevilacqua, detto Ulisse, che ricorre nel mostro di Firenze. Joe Bevilacqua sarebbe il mostro di Firenze che in verità era Zodiac, che si è trasferito in Italia, come abbiamo parlato in tantissime altre occasioni di serial killer che hanno smesso di uccidere in un'area geografica e poi si sono trasferiti per continuare la loro carriera omicidiaria. Joe Bevilacqua nasce come suggestione, tra virgolette, anche dalle testimonianze. Anche come circostanze di date, no? Sì. Perché il mostro, se vogliamo, uccide in un modo particolare dal 1974, fermo restando il duplice omicidio del 68, che però è diverso dagli altri. E Joe Bevilacqua, cioè Zodiac... Zodiac smette di uccidere nel 69, anche se poi la Bates muore nel 66, quindi anche lì bisogna un po' ricontestualizzare e ricaratterizzare le date, è molto importante questo nella definizione della ricerca. E poi si rifà vivo nel 74. E poi si rifà vivo nel 74. Tra l'altro c'è anche un indizio di tipo letterale perché all'interno dei messaggi ci sono molti riferimenti all'acqua e quindi ciò riconduce alla figura di Joe Bevilacqua, fino alle testimonianze del BAN durante il processo del mostro di Firenze che accreditano questa tesi. Altro sospettato importante all'interno dell'economia del nostro racconto e se vogliamo, e per un certo tempo ha dato una certa suggestione anche volontà di capire meglio e soprattutto di credere che fosse davvero lui Hendrickson, perché le accuse ad Hendrickson vengono rivolte dalla figlia adottiva, la Perez che dice effettivamente durante un'intervista che il suo padre adottivo, perché lei è stata adottata, appunto Hendrickson, in realtà era Zodiac. Ovviamente afferma queste cose una volta che Hendrickson già è morto, fino a inficiare e a delegittimare tutto quello che ha detto e soprattutto a minare la sua credibilità quando in un'intervista successiva dice di essere la figlia segreta di John Fitzgerald Kennedy e quindi le indagini virano da tutte altre parti, però oltre a quelli che ha nominato lei ce ne sono stati anche altri, c'è un certo Best, insomma per un certo periodo di tempo, anche lungo, la polizia ha brancolato nel buio e ha sparato un po' nel mucchio, adesso invece ci sono degli elementi fattuali, concreti che ci fanno pensare che la figura di Zodiac sia riconducibile a quella di posta, anche se non possiamo affermare nulla di certo almeno per il momento. Ecco abbiamo parlato degli sviluppi recenti, delle indagini su Zodiac, come detto nella puntata del 20 dicembre 2020 la trovate sul canale YouTube di Cusano Italia TV, parliamo nel dettaglio di Zodiac, ma in chiusura, ecco ricordiamo rapidamente questo serial killer, sette le sue vittime, cinque uccise, due sopravvissute, ma potrebbe aver ucciso anche altre persone e potrebbero essere più di uno Zodiac, si è parlato di più assassini, insomma una storia molto contorta. Io credo questo, credo questo anche perché secondo me un'evidenza che è stata forse sottovalutata nell'ambito dell'analisi di questa storia è il fatto che in molti degli omicidi cambia il modus operandi, che è la cifra del serial killer, si usa l'arma da fuoco nelle ricostruzioni si parla di una calibro 22, di una 9 mm, di un'altra pistola e quant'altro, ma usa anche armi da taglio e quindi questo aumenta i sospetti. Poi il fatto che colpisse solo delle coppie che si erano appartate, almeno in quelli ufficiali, a parte l'omicidio del tassista, che è l'ultimo in ordine di tempo. Tant'è vero, la Perez dice che il padre Hendrickson conservava gli occhiali del tassista, scusate, dell'ultima vittima e questa cosa lo porta direttamente ad essere associato al mostro di Firenze, che effettivamente si rivolgeva a quella tipologia di vittima. Detto questo, io penso che effettivamente Zodiac sia una figura quasi astratta, che è stata abitata, almeno nella concretezza delle sue azioni, da più personaggi, da più persone effettivamente anche le ricostruzioni delle vittime che si sono salvate, che erano soprattutto gli uomini delle coppie, ricordiamo insomma le coppie, ma Joe... David Arthur Faraday e Betty Lou Jensen, giovanissime, 17 anni e 16 anni, nel 68. Nel 68, poi nel 69 ci sono state la Artnell, John Artner e la Shepard, prima ancora Maggio e la Ferrin, i ragazzi Artnell e Maggio si salvano e danno una descrizione dell'assassino abbastanza diversa, soprattutto l'ultima coppia... Cioè anche quella, scusi se ti interrompo per far capire quel disegno che abbiamo visto, un po' particolare, un po' strano, mascherato... È una ricostruzione... È quella la coppia uccisa al lago, no? Esatto, fatta dall'ultima coppia, ossia dal supersite dell'ultima coppia... Dal supersite, perché poi si salvò... Che dice di aver visto un uomo incappucciato, con il simbolo, come abbiamo detto, il cerchio con la croce all'interno, che ha rivelato loro di essere scappato da un penitenziario e che li ha uccisi questa volta con armi da taglio, dopo averli anche torturati per un certo periodo. Quindi, secondo me, il modus operandi e la varietà, il cambio, la modifica, no? Rispetto a quello che doveva essere poi il comune denominatore dei suoi omicidi, dovrebbe far pensare a più autorialità rispetto a questi assassini. Ma anche in questo senso siamo nel campo delle ipotesi. E poi ricordiamo, a proposito di Zodiac, la particolarità, le lettere che scriveva ai giornali, le minacce che faceva, se non fate questo sparo su uno scuolabus, lo faccio saltare in aria... Lui rivendica soprattutto, non rivendica sette omicidi, lui ne rivendica trentasette, no? Quindi i numeri sono davvero distanti, no? E questo già deve far pensare. Non è stato il primo a strumentalizzare i mezzi di comunicazione. Jack, lo squartatore, lo ha fatto con grande maestria. Lui forse è il primo ad usare i codici. I codici. E quindi a coinvolgere e soprattutto ad impegnare dei pool di esperti per cercare di decriptare questi messaggi. E alla luce di questa decriptazione alcuni suoi messaggi poi hanno anche un chedi esoterico, se vogliamo, perché lui effettivamente afferma che non lo prenderanno mai e che molte delle sue vittime saranno nell'aldilà i suoi schiavi. Quindi più aumentano le vittime, più ci saranno schiavi al suo servizio nell'aldilà. Questo non fa altro che mettere ancora di più in allarme le forze di polizia che brancolano nel buio, perché molto probabilmente, dato alla luce di quei messaggi, lui continuerà ad uccidere. Nel 69 si ferma e molto probabilmente, non sappiamo il motivo, continuerà la sua carriera da un'altra parte e comunque l'unica cosa certa è che il mistero che lo aveva accompagnato per tutta la sua vicenda esistenziale o micidiaria diventerà ancora più fitto. E la polizia di San Francisco aveva catalogato il caso come inattivo nell'aprile del 2004, però lo riaprì nel marzo 2007. L'immagine che avete visto prima nel video con le lettere, i codici di Zodiac, voglio ricordare che l'11 dicembre 2020, proprio un altro pool formato dallo statunitense David Oranchak, il programmatore belga Fanaik e l'australiano Sam Blake, che si vede poi alla fine anche del filmato, hanno decriptato il testo cifrato di 340 caratteri inviato da Zodiac al San Francisco Chronicle. Infatti si vedeva proprio il cronico, l'8 novembre del 69. E in questo messaggio ci sono proprio quello che diceva lei, questi messaggi esoterici. Ecco perché affascina molto la figura di questo serial killer. Sì, ha una suggestione assolutamente drammatica. Ripeto, riesce a strumentalizzare molto i mezzi di comunicazione sotto la minaccia, che molto probabilmente li avrebbero pubblicati comunque, però lui li fa pubblicare sotto la minaccia che ucciderà altre persone. E altro elemento importante è che lo ricongiunge al mostro di Firenze, che anche nella vicenda del mostro di Firenze appare un messaggio cifrato, che è riconducibile a quelli di Zodiac e che possibilmente ne aumenta la suggestione drammatica e sanguinaria. Soprattutto per quelli che considerano il mostro di Firenze un qualcuno venuto in Italia, dall'America. Un qualcuno venuto in trasferta, una trasferta assolutamente sanguinaria. Ma non è il primo caso nella storia del serial killer, lo abbiamo detto tante volte. Poche settimane fa abbiamo parlato dello squartatore di Lisbona, che molto probabilmente si pensa che abbia operato anche in centro Europa. Ma sono tutte ipotesi che non sono avallate da evidenze probatorie. E' lo stesso di Jack lo squartatore, si disse che emigrò, andò a uccidere da qualche altra parte. E sviluppi recenti ne stiamo avendo ultimamente parecchi. Questo su Zodiac, la volta scorsa abbiamo parlato del serial killer Le Grelle, il francese, il butterato François Averov, si è scoperto. Lì abbiamo la certezza che sia lui che si è suicidato, ha lasciato la lettera dicendo sono io il serial killer butterato che tutta la Francia stava cercando. Grazie al professor Marino D'Amore. Grazie a voi. Sociologo della comunicazione e criminologo per quanto riguarda l'Università Nicolò Cusano, compagno di viaggio a crimine e criminologia, oggi non solo per la Galleria degli Orrori, ma anche per il tema principale, il caso Meredith. Grazie a Manuel Mazzei che ha curato la regia, soprattutto grazie a voi per la cortese attenzione e buon proseguimento con Cusano Italia TV. Grazie a tutti.